Per la prima volta il vescovo Dante Lafranconi si esprime sul dramma della pedofilia nel clero, nella lettera con la quale risponde all'avviso di messa in mora di Francesco Zanardi, portavoce della rete L'Abuso. Zanardi di Savona è egli stesso vittima di abusi sessuali e rappresentante di altre vittime. La procura di Savona ha aperto un nuovo fascicolo poiché sì, vittime hanno rivelato alcuni presunti abusi e un'inchiesta è partita. Don Nello Giraudo e Don Giorgio Barbacini, già condannati, erano stati assegnati dal vescovo di Savona Enoli, cioè Monsignor Lafranconi, a due comunità per minori sottratti dai servizi sociali ai genitori e affidate alle due comunità. Entrambi i preti, tragicamente, hanno già una condanna sulle proprie spalle. Sono 50 le vittime di Don Giraudo che hanno avuto il coraggio di parlare. Più difficile è stato ricostruire il caso di Don Barbacini, che seguiva minori extracomunitari, i quali, una volta maggiorenni, se ne sono andati per la propria strada. Così Francesco Zanardi ha inviato, come prevede il Codice Civile, una lettera di messa in mora a Monsignor Lafranconi. C'è una lettera raccomandata che descrive precisamente i fatti di cui ci si lamenta, chiede il risarcimento danni e minaccia di rivolgersi alla magistratura se non si arriva a un accordo abbonario. Una sentenza del Tribunale di Bolzano ha stabilito 500.000 euro per ogni vittima di abuso e 100.000 per ogni familiare. È a questa sentenza cui fa riferimento la rete e l'abuso nella richiesta di risarcimento, che in ogni caso non può che dipendere da una perizia medico-legale per valutare l'eventuale danno. La lettera del Vescovo di Cremona sta circolando sul web da diversi giorni, ma perché viene coinvolto Monsignor Lafranconi? Il Tribunale di Savona aveva messo in prescrizione un caso precedente nel quale il Vescovo era accusato di omertà, cioè di non aver segnalato alle forze dell'ordine i due sacerdoti. Tuttavia il Vescovo sapeva o no? Il GIP di Savona nell'ordinanza di prescrizione non usa toni teneri. Ora la vicenda si riapre e il Tribunale civile Ligure è chiamato a far chiarezza. Il Vescovo di Cremona scrive parole che meritano ascolto. La consapevolezza della gravità del fenomeno dell'abuso domanda alla Chiesa tutta di restare fedele a un concreto atteggiamento di ascolto delle situazioni e soprattutto se necessario di accoglienza delle persone coinvolte in tale vicenda. Il Vescovo dichiara inoltre di condividere la sofferenza dei ragazzi che hanno vissuto tale dolorosa esperienza. Rifiuta ogni addebito e si rivolge al proprio avvocato. Da uomo di fede cristiana rivolge la sua preghiera a chi ha subito l'offesa come a chi l'ha provocata.